buongiorno ben ritrovati in questo nuovo canale parliamo di differenze tra maschile e femminile nei video precedenti abbiamo detto che ciò che ci conquista e ci cattura delle donne è in definitiva il loro modo di vedere di interpretare quindi di vivere la realtà alla luce della loro femminilità questo è un modo del tutto nuovo che ci spiazza ci butta fuori strada costringendoci ad interpretare continuamente ciò che viviamo di volta in volta senza i nostri vecchi abituali punti di riferimento in realtà però però l'immagine che ci seduce deve essere in qualche modo già presente dentro di noi cosicché la possiamo vivere proprio in quel momento in psicologia noi diciamo che veniamo sedotti dalle nostre stesse immagini che l'altro è stato capace di evocare infatti ciò che mi seduce in realtà è una mia immagine interiore e quindi questo processo rappresenta un inganno verso noi stessi e naturalmente serve per sopravvivere serve anche per conoscere l'altra faccia della nostra personalità perché attraverso la trasfigurazione della persona amata attraverso la proiezione su di lei della nostra dei nostri contenuti inconsci attraverso la visione dell'altro che noi vediamo attraverso i nostri bisogni noi scopriamo delle parti di noi stessi quest'inganno però apre poi la strada al problema e quindi al tradimento infatti come scrive newman quando la donna ritira la proiezione sulla figura esterna del compagno e riconosce questo maschile come qualcosa di interno perviene ad una sorta di autonomia dal partner e questo atto di libertà cioè il ritiro delle proiezioni viene irrimediabilmente vissuto dal partner come una sorta di tradimento che diventa inevitabile così come insopportabile sarebbe il peso delle proiezioni dell'altro e allora e allora in questo caso sentiamo che l'altro si è portato via qualcosa di nostro sentiamo che l'altro ci ha mutilati e smembrati psicologicamente questo è il percorso del ritiro delle proiezioni il ritiro poi dal ritiro delle proiezioni si va verso l'abbandono e il tradimento nel tentativo di riconoscere quelle parti di sé soffocate nella relazione e questa è la riconquista della nostra identità ma in questo caso il tradimento diventa necessario necessario almeno sul piano psicologico naturalmente non stiamo parlando di realtà stiamo parlando di meccanismi psicologici quindi sintetizzando si delinea un percorso di questo tipo fusione confusione con l'altro fusione unione quindi completezza e totalità ritiro delle proiezioni abbandono e qui stiamo sempre parlando di abbandono psicologico che solo a volte diventa un abbandono reale vero e proprio chiediamoci però da dove nasce questo abbandono teniamo presente che il processo di completezza psichica non giunge mai alla fine e mentre noi cresciamo nel rapporto e per mezzo del rapporto può succedere che l'amato ci venga meno perché la nostra dimensione è talmente cresciuta che l'altro non risponde più al nostro senso di vuoto ed è in questo momento che lo afferriamo psicologicamente e mentre lo afferriamo lo facciamo nostro e di conseguenza lo perdiamo perché nel momento in cui diciamo all'altro sei mio smettiamo fatalmente di andare alla sua ricerca alla sua scoperta e quindi non abbiamo più bisogno di lui e necessariamente finiremo per abbandonarlo da qui capiamo bene che fortunata è quella coppia nella quale ognuno dei partner resta in piccola parte qualcosa di misterioso di non svelato un mistero affascinante che rende più accattivante la persona amata attraverso questa conquista noi attingiamo nuove immagini interne nuove visioni di noi stessi però ad un certo punto arriva l'inganno dove sta l'inganno nell'illusione di credere che la nostra sensazione di totalità sia garantita dalla presenza di qualcuno ma questa è un'illusione necessaria questa è quella dimensione che ci permette di restare sempre giovani sul piano psicologico bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivermi un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 4 7 3 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza specificando il vostro nome il vostro cognome e i vostri orari preferiti inoltre vi invito a visitare il mio canale youtube dove troverete centinaia di video sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che racchiudono tutte le mie idee e che si trovano soltanto su amazon il libro dal quale sono partito per fare questo video è questo eccolo qui come sedurre non mi resta che salutarvi arrivederci